A che punto sono i lavori per la riqualificazione del porto rifugio e quale slancio nuovo per il porto commerciale? Questi due giorni sono molto importanti perché accendono una importante vertrina internazionale sulla città di Gela. Soprattutto si parla di portualità, quindi parliamo di un settore che può essere e deve essere tra l'inante per la città di Gela. Noi ci siamo impegnati sin da subito per quanto riguarda riqualificare, rimodulare, rilanciare la portualità di Gela sia per le infrastrutture esistenti sia per la possibilità anche di averne di nuove che siano comunque sostenibili con il delicato sistema che abbiamo all'interno del Golfo. Il porto rifugio, già tutta la parte progettuale è completa, si partirà proprio in questi giorni per la caratterizzazione e consentendo che arrivi pure la firma da parte della regione siciliana, di fatto entro il fine anno si potrebbero avere già i lavori quindi diciamo un obiettivo importante perché in meno di dieci mesi di fatto si è stato sviluppato tutto l'iter sia a livello di progetto che sia a livello economico, soprattutto anche perché siamo all'interno di un'area senna. La scommessa sta a quella di trasformare un luogo come Gela, centro industriale, in un luogo che possa essere sia dal punto di vista di un sistema che metta in rete in tanti collegamenti, a partire da quelli che vanno e che possono essere opportunità legate al turismo ma anche a quelle legate alle proposte che l'amministrazione comunale ha fatto. Mi auguro a differenza del passato che la Sicilia non possa più perdere come è caduto nel 2007-2013 un miliardo di euro che credo gridi vendetta al mondo intero per responsabilità tutte nostre, lo dobbiamo dire con grande umiltà e quindi mi auguro che si possa invertire la rotta, mi auguro che le ingenti risorse della nuova programmazione vengano utilizzate in maniera molto più oculata rispetto al passato e ovviamente non vengono disperse nei meandri della burocrazia cosa che puntualmente è accaduto. L'amministrazione ha voluto segnare storicamente con l'emissione di una delibera di giunta che espone l'amministrazione politicamente ad una scelta forte per percorrere con passo deciso quello che da mesi sosteniamo, cioè la volontà di far parte di un sistema portuale sinergico, completo, competitivo che possa permettere di dare al territorio la dignità di ricostruirsi un futuro un futuro basato sulle attività commerciali in mare, un futuro basato su quello che è un apporto industriale e un porto turistico che necessitano di essere riqualificati per rimettere gela nel sistema competitivo che porti il paese, il paese Italia, a potersi giocare una partita importante all'interno delle rotte del Mediterraneo.